Se hai aperto questo video probabilmente sei in cerca di risposte. Molti di noi aprono YouTube quando stanno cercando la risposta a un quesito e se vengono sul mio canale probabilmente questo quesito riguarda il mondo della fotografia, del video making e del design. Nel corso del video di oggi vado a rispondere a una serie di domande che mi avete fatto. Normalmente rispondo con degli shorts o con dei commenti semplici quando riesco ma in questo caso mi prendo un po' di spazio, un video lungo, per rispondere a un po' dei vostri commenti. Fatemi sapere se questo format vi può piacere perché potrei anche proseguirlo e farne degli altri. Ciao a tutti amici, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia da tanti anni. Normalmente quando mi fate una domanda su un commento sotto uno dei miei video cerco di rispondere tempestivamente. Ora ci metterò un po' di più nel caso di questi commenti che ho selezionato perché rispondendovi con un video lungo lo devo poi montare e quindi uscirà un po' di tempo dopo ma io spero che le domande che ho scelto non siano urgenti. Ovviamente se mi dite guarda domani ho un battesimo dammi un consiglio non rispondo a quella domanda in un video lungo ma lì vado a rispondere subito. Per usufruire delle risposte ai vostri commenti e per usufruire anche delle risposte a commenti e domande di altri io vi invito a iscrivervi al canale così continuate a sorbirvi i miei contenuti e a beccarvi questo flusso ininterrotto di nozioni sulla fotografia e sul videomaking che piano piano assorbite e diventate fotografi migliori. Andiamo a incominciare. Domanda off topic. Per quanto riguarda il monitor dopo qualche anno dall'acquisto si rende necessaria una ricalibratura. Mi chiedo se ci sia modo di farla senza dover acquistare un tool specifico come ad esempio il Calibrite Color Checker Display di X-Rite. Il base costa più di 160 euro. Allora ragazzi, il monitor non va ricalibrato dopo qualche anno. In realtà il monitor andrebbe ricalibrato ogni poche settimane perché i nostri monitor cambiano. Con l'utilizzo alcuni colori si deteriorano, la luminosità comincia a calare. Il monitor andrebbe calibrato se lo chiedete a me una volta al mese massimo una volta ogni tre mesi il monitor andrebbe ricalibrato. Quindi da lì non si scappa. Io lo faccio? Assolutissimamente no. Perché non lo faccio? Adesso capite perché questo format. Perché così posso prendermi un po' di tempo in più per rispondere in maniera più approfondita alle vostre domande senza dirvi solo sì, no, di qua, di là. Mi prendo un po' più di tempo per sviluppare una risposta in tempo superiore a quei maledetti 60 secondi dei contenuti verticali. Io li odio i contenuti verticali. Allora, che cosa succede? Quando io vado a calibrare il monitor vado a stabilire come si devono comportare i colori che vengono riprodotti su di esso. Lo vado a fare con degli strumenti. Quindi in particolare ci sono degli strumenti che io applico al monitor e in determinati punti questo strumento collegato al monitor stesso via software mi va a dare una lettura del colore come sta venendo, come si sta manifestando sul monitor e mi va quindi a creare un profilo monitor personalizzato che poi dovrebbe darmi la resa migliore possibile. Questa calibratura io l'ho fatta la mattina. Questa calibratura al pomeriggio non va più bene perché nel frattempo la luce nella stanza è cambiata e quindi il colore rende già in una maniera diversa. Quindi io dovrei ricalibrare il mio monitor due volte al giorno per fare la mattina che il sole sta da una parte e il pomeriggio che il sole sta dall'altra parte e la luce nella stanza è completamente diversa e poi dovrei ricalibrarlo una terza volta per la notte. Capite che il discorso è piuttosto complesso. Infatti la calibratura dei monitor una volta storicamente si faceva per dei monitor che stavano in ambienti di luce controllata. Se io avessi il mio ufficio sempre oscurato in questo caso sì che potrei calibrare il monitor perché direi va bene le luci qui sono sempre le stesse e la situazione è immutata, è sempre uguale io posso calibrare il mio monitor e per tre mesi non lo devo toccare più perché la resa nella stanza è sempre la stessa. Certo che se io calibro il monitor in un modo e poi accendo un neon che mi butta fuori un sacco di verde io l'ho calibrato in un modo però poi vedo verde e quindi diventa inutile. Questo che cosa ci deve far capire? Due cose secondo me. La prima, la calibratura del monitor è per contesti altamente professionali come studi grafici o reparti marketing di aziende grosse del fashion, del design dove la cura del colore deve essere superiore. Io vi dico senza nessun problema che l'agenzia web nella quale lavoro io non lo fa questo procedimento. Noi non lo facciamo. Non lo facciamo per due motivi. Il primo motivo è che come detto io dovrei due volte al giorno mettermi a ricalibrare il monitor e il secondo motivo è che nessuno dei nostri clienti ha questa attenzione sul colore. Inoltre c'è da dire anche un'altra cosa avevo detto due punti all'inizio adesso questo è il secondo. Nel momento in cui noi lavoriamo con un monitor per esempio io ho dei monitor tutti Apple nel momento in cui io lavoro con dei monitor Apple la resa è abbastanza buona. Non è che se non lo calibro non posso lavorare. Inoltre la resa è abbastanza buona in certe cose può essere deficitaria ma io ho un ausilio molto potente dalla mia parte ovvero gli strumenti di analisi e i profili colore. Nel momento in cui io ho un monitor non calibrato e quindi ho un legittimo dubbio io però posso con gli strumenti di analisi andare a vedere esattamente di che colore stiamo parlando. Posso dire ok il colore in questo punto che colore è? Ok vado a vedere e se i codici mi risultano il colore è giusto, è corretto. Quindi quando io vado in stampa con un qualcosa di brandizzato e il colore deve essere esattamente quello io ho il colore del cliente ho i pantoni del cliente e io so che il colore è giusto. Poi lo vedo lievemente diverso a monedo non fa niente numericamente è giusto. Se io ho messo il profilo colore corretto e il codice colore corrisponde io sono a cavallo non ho bisogno di vederlo bene per sapere che in stampa uscirà bene. È giusto, è numericamente giusto. Identicasi per le fotografie io posso andare con gli strumenti di analisi a dire ma la lampadina qui il bulbo della lampadina è bruciato o c'è ancora dettaglio? Mi porto su col cursore e me lo dice subito strumenti di analisi e vedo se c'è perdita di dettaglio oppure no vedo se è bruciata oppure no. Quindi anche in assenza di un monitor calibrato alla perfezione abbiamo tutti gli strumenti per cavarcela allo stesso se li sappiamo usare. Con questo cosa voglio dirvi non calibrate i monitor no, l'ideale sarebbe calibrare il monitor non dico due volte al giorno ma quantomeno una volta ogni tre mesi sapendo benissimo che se poi nel vostro ufficio entra una persona con una camicia arancione e si mette dietro di voi rifletterà arancione sul monitor e la calibratura lascerà un po' il tempo che trova perché ogni minimo cambiamento è la calibratura non dico che andrebbe rifatta però non possiamo fidarci così tanto dei nostri occhi è molto meglio fidarsi degli strumenti di analisi perché quelli non sbagliano. Passiamo alla prossima domanda. la domanda che sto per farti potrebbe essere scontata ma vorrei chiedere a te perché sei un esperto e non è vero ho da poco iniziato ad appassionarmi alla fotografia e ho trovato in casa una vecchia Reflex una Canon EOS 30D dovrei comprare questo decisamente nuovo corpo macchina e stiamo parlando in questo video stiamo parlando della R50 quindi dovrei comprare una R50 oppure comprare delle buone ottiche EF e EFS oppure andare sull'usato e trovare dei top di gamma di qualche anno fa allora è una scelta assolutamente personale dipende da che cosa vuoi ottenere perché sono cose molto diverse che ti portano a risultati molto diversi se ti tieni la macchina che hai già e investi sulle ottiche non è un investimento vero perché le ottiche sono di un sistema che va a morire che non viene più prodotto le ottiche su cui tu adesso investi tra due anni varranno molto di meno perché si saranno fuori produzione non ci saranno ci saranno sempre meno corpi macchina che le accettano e sì vabbè ci sono gli adattatori però quello che voglio dirti è che non è un vero investimento perché è un mondo che va a morire quindi non è un vero investimento perché ti trovi magari della roba tutta usata sapendo già che prima o poi appena ti bruci il corpo macchina devi comunque fare dei cambiamenti onestamente per quanto io ami il sistema Reflex e io ce l'ho ancora e lo uso ancora e lo userò finché tira non lo butterò mai via non lo venderò mai queste macchine moriranno con me in mano mia mentre le uso però io le ho già comprate e sono in ottimo stato se ti vai adesso a prendere delle cose vecchie seconda mano che non vengono più prodotte sono già un po' usate e quindi ti dureranno magari meno di un qualcosa di nuovo secondo me non è un investimento perché vai a prendere un qualcosa che sai già che prima o poi lo devi sostituire quindi poi dipende da cosa trovi se trovi un usato pari al nuovo se trovi un usato ex demo quelle sono praticamente nuove però è anche possibile che ti trovi una cosa strausurata e te la fanno pagare come una mirrorless nuova perché succede anche questo e quindi io ci starei molto cauto sull'andare ad acquistare cose così vecchie pensando di portartele avanti vero è che le puoi prendere per imparare e se tu impari con le cose vecchie impari molto meglio rispetto che sulle cose nuove perché le cose vecchie ti obbligano a lavorare in un certo modo se tu compri una mirrorless tipo la R50 quella fa tutto da sola potenzialmente è una macchina con degli automatismi molto potenti quindi anche se non sei capace quelle sono proprio macchine pensate per essere messe in mano a chi non è capace e darti il risultato lo stesso quindi è molto bello perché hai la sensazione di potenza di dire ah cavolo quindi ho cacciato il grano però guarda adesso che foto vengono fuori in automatico è bello lo riconosco è bellissimo anche a me piacerebbe cacciare giù i soldi per una macchina da formula 1 e dire porca miseria adesso sono un pilota mi piacerebbe non lo nego solo che la macchina da formula 1 non me la posso permettere però detto questo se io invece avessi imparato a guidare bene su una macchina normale poi sarei capace di guidare bene tutte le macchine e anche guidare bene la macchina da formula 1 mentre invece se io non imparo e poi non ho imparato quindi se poi mi danno in mano un'altra macchina poi non sono capace imparare su una macchina vecchia secondo me ha assolutamente senso ma non perché quelle nuove non vanno bene quelle nuove vanno benissimo però quelle nuove sono così automatizzate che non impari certi processi che invece su quelle vecchie eri costretto a fare tuoi se tu fai tuoi quei procedimenti che sulle macchine vecchie erano obbligatori se no non veniva la foto dopo con le macchine nuove non ti ferma più nessuno per quanto riguarda comprare si è parlato anche di comprare macchine ultra performanti però comunque un po' vecchio io sono assolutamente contrario per due motivi il primo motivo comunque vai a prendere una macchina usata una miraglia usata è una miraglia che è stata strasfruttata nella maggior parte dei casi è una macchina mezza morta che il proprietario vende perché sa che è mezza morta si sta prendendo la R5 e allora dà via la sua vecchia miraglia ti vai a prendere quella miraglia la paghi tanto perché una miraglia non la vendi a 300 euro una miraglia la paghi tanto quanto una R50 solo che è usata e in più una miraglia è una macchina difficilissima da usare quindi tu come primo impatto dici cavolo la mia prima macchina non riesco a usarla non riesco a fare le cose perché quella lì o la sai usare o non ti viene fuori la foto quella lì o la imposti o le dici esattamente cosa deve fare o non riesci a usarla è molto complicata cioè perfino per me vi dico io non la vorrei una miraglia è troppo troppe cose troppi bottoni troppe funzioni da sapere troppe cose che se non le dico cosa fare non viene la foto come volevo quindi non è la macchina per me non è la macchina per un neofita assolutamente no secondo me poi detto questo se siete strassicuri e vi capita la mega occasione a miraglia di due anni fa in vendita a 1200 euro imperdibile non me la posso far scappare c'ha solo 3000 vabbè lì sarebbe sciocco non prenderla sono il primo ad ammetterlo al massimo la rivendete a 2000 una macchina così avete presa a 1200 la rivendete a 2000 va bene però non è la scelta migliore secondo me secondo me la scelta migliore potrebbe essere sì una macchina io tendo a consigliare le macchine nuove ultimamente perché non so che tipo di utenza mi trovo di fronte ok quindi se mi trovo di fronte un tipo di persona che vuole imparare che è disposto a sbatterci la faccia a perdere tempo a farsi un mazzo così per imparare i rudimenti allora gli posso anche consigliare una vecchia reflex però se invece mi trovo davanti qualcuno che vuole fare qualcosa subito avendo soddisfazione da subito e purtroppo il mondo va in quella direzione quindi io mi rendo conto che se io consiglio una fotocamera vecchia l'impatto può essere cavolo sta cosa gnocca non riesco a fare le cose non mi piace non mi diverto la pianto lì quindi per questo motivo io tendo a chi mi dice non so cosa prendere io tendo a consigliare la fotocamera nuova perché la fotocamera nuova so che ti darà soddisfazione da subito quindi ti diverti di più da subito e quindi non hai quell'impatto negativo di dire non riesco a usarla mi arrangio col cellulare io quello è quello che voglio scongiurare detto questo la fotocamera moderna ha una curva di apprendimento che si esaurisce molto prima perché una volta che hai imparato che fa tutta da sola hai già finito invece con le fotocamere di una volta la curva di apprendimento era più lunga dovevi imparare più cose te la godevi forse un po' di più perché nell'arco di tempo in cui imparavi a usarla la soddisfazione cresceva man mano perché diventavi sempre più bravo cosa che adesso è più difficile allungare perché la macchina appunto fa quasi tutto da sola sono scelte io ti ho messo lì un po' di ingredienti per capire quale piatto ordinare però poi bisogna capire che cosa vuoi prossimo commento idea pazza avrebbe senso mettere un 1200 mm su una macchina entry level o in generale mettere un'ottica top con una camera basic questo credo che sia un topic strasfruttato ne parlano un po' tutti per come la vedo io la fotocamera e l'obiettivo sono un po' come un corridore con le sue scarpe quindi la domanda che mi fate è sempre questa io lo capisco perché mi fate questa domanda perché uno dice sta roba costa un casino di soldi posso comprarne una sola delle due bella e l'altra prendere la schifosetta così risparmio su una delle due si può fare questa cosa l'esempio che a me piace portare è questo dobbiamo correre una maratona che cosa facciamo prendiamo un corridore eccezionale a piedi nudi o prendiamo un corridore mediocre con le scarpe da corridore sicuramente il punto è questo se c'è qualcuno che ha preso un buon corridore con le scarpe buone quello ci batte quello ci batterà sempre così come uno che ha preso un corridore mediocre e lo fa correre scalzo ma farà dieci metri e poi si sarà distrutto i piedi e non arriverà neanche se noi facciamo una scelta intermedia è evidente che ci mancherà sempre qualcosa perché ci manca una delle due parti da lì non si scappa più spendi più riesci a fare detto questo là fuori sul web troverete sempre la risposta è meglio prediligere l'ottica buona piuttosto che il corpo macchina io non sono d'accordo non sono d'accordo perché perché fanno due cose diverse ovvero l'obiettivo ci serve ad avere la visione che ci interessa chiaramente se io devo fare fotografie di interni e ho un obiettivo che fa solo macro parto male in quel caso è l'obiettivo che è sbagliato e devo cambiare l'obiettivo il corpo macchina poteva andare bene qualunque cosa viceversa se io sto facendo avifauna e devo beccare un ghieppio che sta facendo una planata e lì io posso anche avere l'obiettivo che mi serve posso avere l'800 mm il 1200 mm però se io ho una fotocamera che non mi mette a fuoco quella scena la foto non la farò mai questo per farvi capire esistono fotocamere adatte a certi contesti obiettivi adatti a certi altri contesti ora se da un lato è vero che mettendo un obiettivo top su una fotocamera entry level otteniamo una fotografia con una qualità potenzialmente con una nitidezza e un microcontrasto top perché quello è dato dall'ottica è vero anche che se poi con quella macchina entry level non riusciamo a mettere a fuoco o non abbiamo la sensibilità ISO o la gamma dinamica necessaria a fare la foto forse era meglio investire sul corpo macchina e prendere un'ottica più scadente perché non avremmo più avuto quella nitidezza e quel microcontrasto dati dall'ottica avremmo avuto una foto più morbida però avremmo avuto la foto che volevamo seppur più morbida quindi dipende dipende da che cosa stiamo facendo sicuramente se prendiamo un'ottica top e la mettiamo su una fotocamera entry level per utilizzi standard otteniamo una bella qualità di immagine data dall'ottica se riusciamo a mettere a fuoco se riusciamo ad avere la gamma che ci serve se è un contesto standard non particolarmente complesso riusciamo a ottenere un buon risultato facendo così certo è che se stiamo facendo una gara di formula 1 e abbiamo l'obiettivo uscito ieri bellissimo top di gamma da 6.000 euro e poi abbiamo la fotocamera di dieci anni fa obiettivo bellissimo ma non riusciamo ad agganciare il soggetto non riusciamo a mettere a fuoco quindi dobbiamo pensare a questa cosa prossimo e ultimo commento perché ci stiamo dilungando vorrei chiederti se sarebbe meglio una EOS R con lente 24-105L oppure una R6 con 24-105 STM il motivo della domanda è che entrambi costano più o meno uguale nel complesso mi piace principalmente la foto di paesaggio anche notturno star trail via lattea eccetera grazie intanto allora facciamo due considerazioni sulla strumentazione poi andiamo nello specifico Canon EOS R è una bella macchina secondo me io la uso tuttora e a me piace tantissimo difetti della macchina sicuramente è una mirrorless che è uscita un po' con la fretta perché Canon aveva la fretta aveva la scimmia sulla spalla di uscire subito con una mirrorless e quindi è una macchina che risente di questa fretta secondo me il 24-105 serie L è un obiettivo non stellare perché secondo me non è fatto per quello non è fatto per fare star trail e cose del genere però è un bello obiettivo parliamo di Canon R6 Canon R6 che ho anch'io io ce le ho entrambe R6 è una macchina bella R6 è una macchina secondo me top è una macchina di quelle che dici presa questa sei a posto EOS R non è così EOS R va bene per fare certe cose R6 fai tutto ci puoi fare quasi quasi tutto ci fai quasi qualsiasi cosa è una macchina bella molto versatile fai sia foto sia video bene senza compromessi è veramente bella il 24-105 STM aspetta cucù ce l'ho qui ce l'avevo sul tavolo perché l'ho smontato da poco dalla R50 che mi ha mandato Canon quindi questo ce l'avevo ancora qui è un obiettivo carino secondo me non è male questo obiettivo l'unico difetto che ha è l'apertura il diaframma variabile questa è una cosa che io non sopporto sulle ottiche infatti questo era nel kit io ho comprato una macchina con questa che era sul kit tornato a casa provata una settimana tornato in negozio dammi il serie L non ce la faccio non ce l'ho fatta ora venendo al caso specifico secondo me queste due ottiche potrebbero entrambe non essere adatte potrebbero non andare bene perché innanzitutto perché entrambe partono da f4 e addirittura l'STM finisce a f7.1 quindi secondo me sono ottiche troppo buie per fare star trail e troppo buie per fare foto notturna vanno bene per fare paesaggio diurno però anche lì 24 per fare paesaggio io vorrei di più io vorrei un 16 per fare paesaggio vorrei qualcosa che mi permettesse di abbracciare una porzione molto maggiore di questo paesaggio poi dipende dai paesaggi che fai perché ognuno ha la sua geografia e quindi dipende dai paesaggi che fai però per come concepisco io il paesaggio e la fotografia notturna secondo me queste ottiche non vanno bene io vorrei un 16 mm un 14 mm magari un 14-35 magari un 16-35 per fare paesaggio e per fare fotografia notturna vorrei qualcosa con un'apertura molto maggiore di f4 io vorrei almeno un f2.8 potenzialmente anche un f1.4 per fare fotografia notturna e fotografia delle stelle perché mi serve un'ottica veloce altrimenti devo alzare gli ISO a dismisura se sei deciso di andare su quella strumentazione lì io piuttosto ti direi R6 con il 24-105 serie L però perché almeno così benefici della R6 che gestione del rumore è meglio della EOS R e benefici anche però del diaframma fisso perché se ti prendi l'STM e poi vai con la R6 a fare le stelle a F7.1 è un peccato cioè hai una macchina bella e ti permette di fare quello che dicevamo prima parlando di ottiche e corpi macchina hai la fotocamera bella e ti consente di fare determinate cose però poi gli metti davanti un'ottica che te l'ammazza perché la macchina li regge bene gli altiso però così gli stai dicendo che deve usarli tre volte più alti secondo me è un peccato tutti quelli che hanno ricevuto risposta in questo video ovviamente sono liberissimi di commentare ulteriormente qui sotto così proseguiamo eventualmente il discorso se avete altre domande a questo punto io mi fermo qui perché questo video è infinito fatemi sapere in un commento se questo format vi piace se posso proseguirlo per me è interessante perché è riposante leggo le domande in diretta e rispondo lo trovo carino quindi fatemi sapere se anche a voi è piaciuto iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi appuntamenti e gli shorts verticali che usciranno comunque con le risposte ai vostri commenti signori è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video a Grazie a tutti.